4.4 seconda azione Il percorso attraverso il quale vi racconto la mia università, il Politecnico di Torino Lo farò attraverso le parole di chi lo vive Io piccolino, avevo 5 anni Con tre interviste secondo le tre diverse prospettive tipiche di un disegno tecnico industriale La vista frontale Volevo studiare qualcosa legato alla sostenibilità ambientale La vista dall'alto Tu sai che per sviluppare un iPad c'è all'opera un antropologo E la vista laterale Bene, ti va di fare due passi? Certo, certo, valentieri Lo spazio per l'equità di genere ci deve essere Prima io associavo il Politecnico, comunque una struttura maestosa, imponente E' il tuo primo ricordo qui al Politecnico? Una macchina che faceva i cubetti di ghiaccio enormi Sono le basi per lo studente universitario Le nonne Il motto è dall'ingegnere nerd Qua vedo un posto sicuramente interessante Noto molto che ci sono adesso tantissimi studenti internazionali La decisione era tra Politecnico di Milano e di Torino E ti lascio al tuo laboratorio Questa è una bella giornata visto che ti piace così tardi Vado Vado Finita, finita Via, tutti a casa Set sgomberato Questa è una bella giornata Questa è una bella giornata Questa è una bella giornata Questa è una bella giornata